Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Al via il G7 tra le contestazioni è terminata al porto di Ischia da dove era partita la manifestazione e gli appartenenti ai centri sociali giunti da Napoli manifestanti poco più di un centinaio si sono rifiutati di proseguire lungo il percorso autorizzato e si sono fronteggiati con la polizia che ha sbarrato l'ingresso a via Iasolino. La strada dava accesso a via Alfredo De Luca e quindi a piazza degli Eroi poco distante dall'hotel Punta Molino, sede proprio della G7 e dei ministri dell'interno. È stata una scelta antidemocratica, hanno gridato i manifestanti, ma vediamo come si erano organizzati questa mattina. Sono circa 300 gli antagonisti riuniti sotto la sigla Stop G7 che questa mattina si sono imbarcati dal varco porta di massa del porto di Napoli con un traghetto diretto ad Ischia dove si sono dati appuntamento i ministri dell'interno dei sette grandi per il vertice che dovrà sancire l'accordo contro il terrorismo sul web. L'approdo napoletano sarà blindato dalle forze dell'ordine, barra e negozi rimarranno chiusi sull'isola verde che si prepara ad accogliere il summit presieduto dal ministro dell'interno italiano Marco Migniti. Lo spiegamento di forze è eccezionale con circa 1800 uomini mobilitati per garantire la sicurezza alle delegazioni. Da Napoli carabinieri, guardie di finanza e polizia coordinano le operazioni. Ascoltiamo il vicario della costura di Napoli Luigi Bonagura. Un evento come il G7, l'importanza che ne deriva necessita di un'organizzazione meticolosa e capillare che soltanto il coordinamento tra forze dell'ordine può garantire. Ecco perché la presenza nella stessa sala operativa di polizia, carabinieri e guardia di finanza serve a far sì che il risultato da raggiungere sia un risultato positivo. Prima di imbarcarsi per l'isola i manifestanti hanno sfilato in corteo anche a Napoli da piazza municipio a calata porta di massa esibendo cartelli con la scritta No G7. Ascoltiamo l'attivista Alfonso De Vito. Questa giornata di oggi apre una tre giorni che poi avrà luogo anche a Napoli. Domani con un grosso evento in piazza del Gesù con la partecipazione di testimonianze, artisti della città contro ogni tipo di discriminazione e contro le norme minniti. E sabato soprattutto con un grosso corteo cittadino metropolitano che partirà da piazza Garibaldi nel pomeriggio e arriverà fino in prefettura. Quindi quella di oggi è una prima giornata di mobilitazione ma noi ci auguriamo una prima giornata di riscossa di tutti quelli che stanno pagando il prezzo della crisi senza averla provocata. I manifestanti partiti da Napoli hanno ottenuto il permesso di organizzare un corteo fino a un chilometro da piazza degli Eroi, area ridosso delle zone rosse, dove avrà luogo il vertice dei ministri dell'interno. Il summit si terrà al Grand Hotel Punta Molino, presenti i ministri degli interni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e ovviamente l'Italia. I temi al centro della discussione saranno due, la prevenzione dell'uso terroristico di internet e la collaborazione nella notte for a fighter attraverso lo scambio di informazioni e le attività di depotenzionamento degli estremisti. Il consigliere delegato all'istruzione e formazione ed edilizia scolastica della città metropolitana di Napoli, Domenico Marrazzo, ha incontrato nella sede di piazza Matteotti il sindaco e il presidente del consiglio del comune di Ischia, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Casamiccio, la Loredana Cimmino e il preside dell'istituto tecnico Mattei di Casamiccio, l'Antonio Siciliano. L'incontro è servito a fare il punto sulla situazione degli istituti scolastici superiori dopo il sisma che ha colpito i comuni di Casamiccio e l'Acquameno il 21 agosto scorso. In particolare il consigliere delegato Marrazzo ha comunicato che dopo i primi interventi urgenti di messa in sicurezza, la città metropolitana ha presentato al commissariato e al ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica per il terremoto, con cui si sta lavorando con piena collaborazione istituzionale, le schede progetto dei lavori che intende effettuare sugli istituti di proprietà dell'ente per garantire sicurezza e continuità di studio agli studenti dell'Isola Verde. Pellinamenti percosse, minacce via telefono e foto, equivoche postate sui social network, tutto pur di colpire e screditare l'ex che lo aveva lasciato dopo 14 anni di relazione. E' finito per questo, agli arresti domiciliari su Ornia e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, una 53enne di San Cipriano d'Aversa. L'accusa è di stalking commesso nei confronti dell'ex di 43 anni, residente a Casal di Principe, che per colpa del comportamento dell'uomo è stata costretta anche a lasciare il lavoro. La donna ha interrotto la relazione ad agosto. Da allora sono iniziati gli atti persecutori dell'ex compagno. La 43enne però non è rimasta ferma, ma ha presentato più denunce ed è scattato poi l'arresto. Quattro arresti nella Salernità. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coadiuvati dai militari delle compagnie di Castellammare di Stabi e Torre Annunziata, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di quattro indagati residenti tra Angri, Pompei e Sant'Antonio Abate, tutti gravemente indiziati a vario titolo di concorso in estorsione, tentate e consumate, aggravate nell'aver agito con metodo mafioso. A due indagati è stata applicata la custodia cautelare in carcere, restanti quella dei domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di Settuale Antimafia di Salerno e condotte dai carabinieri della sezione operativa di Nocera Inferiore e della tenenza di Pagani, sono state avviate nel febbraio 2016, in seguita alla detonazione di un ordigno nei pressi di un cantiere a Sant'Egidio del Monte Albino, dove erano in corso i lavori per realizzare un centro medico polispecialistico. I quattro indagati sono accusati di plurime condotte estorsive nei confronti di imprenditori del settore idile e immobiliare. Gli arrestati, non nascondendo talvolta la disponibilità di armi in loro possesso, erano soliti avvicinare le vittime sui luoghi di lavoro per poi avanzare le richieste di denaro. Nel corso dell'indagine si è scoperto che gli indagati avevano agito anche contro altre due imprese dili, una delle quali impegnate nella realizzazione di un cavalcavia ferroviario ad Angri. È nata dopo appena 22 settimane di gestazione e peso 480 grammi, ma per assicurarle la sopravvivenza è stato necessario sottoporla ad un delicato intervento chirurgico al cuore per separare la circolazione polmonare da quella sistemica. Un caso unico in Campania, spiegano i sanitari, e tra primi in Italia. L'intervento è stato eseguito con successo direttamente nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, dal professor Gaetano Palma, responsabile della cardiochirurgia pediatrica. Un vero record, una notizia dunque di buona sanità. Oltre l'Italia nel mondo, il mondo in Italia è il tema portante del 32esimo convegno promosso dai giovani imprenditori di Confindustria in programma Capri il 20 e il 21 ottobre. Innovazione, creatività, start-up, territorio, internazionalizzazione. Sono numerosi i temi al centro del 32esimo convegno di Capri promosso dai giovani imprenditori di Confindustria e del Comitato Interregionale Mezzogiorno. L'evento si svolgerà il 20 e il 21 ottobre sull'Isola Azzurra nella consueta location dell'hotel Quisisana. Un'industria 4.0, si discuterà anche di questo. Presenti il sindaco di Capri, Giovanni De Martino, Susanna Moccia, il vicepresidente di Confindustria Giovani nel giorno della presentazione all'Unione Industriale di Napoli. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Alessio Rossi, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, che precisa La situazione è quella che è, la coperta è corta da troppi anni. È una manovra che riconferma il piano industria 4.0, quindi tutti gli incentivi fiscali e tutta la politica dei fattori che Confindustria ha sempre richiesto a questo governo, quindi positivo. Avevamo chiesto una manovra shock sui giovani, quindi una decontribuzione totale per le neoassunzioni dei under 30. C'è in una misura che va nella giusta direzione, l'intensità non è quella che noi avevamo richiesto, però è sicuramente positiva. Ecco, noi avevamo chiesto niente regali preelettorali, se continua tutto così devo dire che siamo soddisfatti per quello che c'è all'orizzonte. Per combattere la disoccupazione c'è bisogno di una decontribuzione totale al Sud, e questo invece è il pensiero di Vittorio Ciotola, neopresidente del gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Napoli. Sicuramente la nuova finanziaria è un intervento importante, soprattutto per quanto riguarda la decontribuzione giovanile, che può intervenire in maniera forte anche sul territorio napoletano. Tanti giovani napoletani, abbiamo visto pochi giorni fa un rapporto che ci racconta di tanti giovani che vanno via, alcuni vanno per formarsi ancora meglio, ma alcuni vanno per necessità. Quindi sicuramente la manovra con la decontribuzione, le assunzioni giovanili è un passo importante. Tornano le fumarole di rifiuti nell'area dell'ex discarica di Pianura a Napoli. La vice sindaco con delega all'ambiente Raffaele Del Giudice è intervenuto infatti insieme ad una squadra di tecnici del Comune per ricoprire con il terreno alcune zone della discarica da cui uscivano le salazioni nauseabonde provenienti dalla discarica. Le fumarole erano state segnalate dai cittadini alle squadre della protezione civile che, su disposizione dell'assessore all'ambiente del giudice, sono attive in diverse zone della città per garantire un pronto intervento. Le fumarole delle salazioni gassose provenienti dal sottosuolo che si presentano come piccole colonne di fumo riportano l'attenzione sulla discarica di Pianura. Nota chiusa nel 1996, dopo le proteste dei cittadini, nota anche come cava Pisani. L'area aspetta da oltre dieci anni di interventi di bonifica che però non sono mai arrivati. L'ultimo saluto a Giuseppe Massa, ex calciatore della Napoli degli anni 60 e 70. Massa è morto martedì sera dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della sua auto. Una nuova partita, questa volta da giocare in paradiso per l'eternità. Così si è espresso il sacerdote che ha ufficiato nella chiesa della Madonna di Piedigrotta la messa esequiale per Giuseppe Massa, calciatore attivo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, nella sua lunga carriera ha vestito, tra le altre, le maglie della Lazio, dell'Inter e del Napoli, sua città natale e con la quale ha vinto la Coppa Italia nel 1976. Ad omaggiare il feretro, la seconda maglia attuale della società calcio Napoli con il numero 7 e il cognome Massa. Molti gli ex compagni che hanno preso parte alla messa, Antonio Iuliano, Vincenzo Montefusco, Gianni Improta e Jarbas Faustinio Canè. Presente anche una delegazione del Napoli Calcio Femminile dove gioca Azzurra, figlia di Giuseppe. La SSC Napoli ha espresso il proprio cordoglio mediante un messaggio sul proprio sito internet e ha ricordato lo score del calciatore con gli azzurri. 150 presenze e 36 gol. 28esimo capo cannoniere nella lista di tutti i tempi della squadra. Il Lagozzo Positano 23 è totalmente elettrico. Il Nova Mares 31 che con un pulsante trasforma un pozzetto in zona pranzo e prendi sole sono alcune soltanto delle novità tra Top Design e Hightech in mostra per navigare 2017. Organizzata dall'Associazione Nautica Regionale Campania preseduta da Gaetano Amato dal 21 al 29 ottobre. al Circolo Nautico Posillipo di Napoli. In esposizione oltre 100 barche tra i 6 e 18 metri. 35 espositori. Si potrà testare in mare l'imbarcazione desiderata oltre che incontrare personaggi del mercato del settore dai cantieri alle aziende che producono accessori. Navigare 2017 sarà accompagnata da incontri con esperti, workshop e soprattutto beneficenza con eventi per la Onlus, Santo Buono, Pausillipo. Migliorare l'accesso al mare e alla pratica sportiva per i disabili dell'area metropolitana di Napoli e della Campania. Questo è l'obiettivo del progetto Vele Accessibile di Pepul Onlus che si concretizza nella campania di crowdfunding della piattaforma meridonare per l'acquisto di attrezzature specifiche che migliorino l'accessibilità alle sedi nautiche e permettano l'integrazione all'offerta velica esistente. A parlarci dell'iniziativa è Paolo Di Lauro, consulente di Meridonare. Anche oggi Meridonare si conferma al fianco delle associazioni, in questo caso di Pepul Sport, e oggi presentiamo ufficialmente questa campagna di raccolta fondi di Vele Accessibile che ha come obiettivo far sì che i ragazzi speciali che frequentano l'associazione possano praticare attività sportiva. Questo chiediamo ovviamente l'aiuto a tutta la cittadinanza di supportare e sostenere questo progetto. L'obiettivo è quello di raccogliere 30.000 euro per l'acquisto di una gru per il sollevamento dei disabili fisici e all'alloggio di barche a vela installate presso la base nautica del Molosio. Questa l'idea di Ileana Esposito di Pepul. La vela è uno sport che fa molto bene alla salute psicofisica e quindi praticamente ora continuiamo, abbiamo sempre finanziato le nostre attività grazie a dei bandi e dei progetti pubblici vinti, quindi dal 2002 sempre autofinanziati con il nostro merito, ora abbiamo bisogno invece di un po' di supporto della cittadinanza e di tutti i nostri amici e conoscenti che sanno bene come lavoriamo e cosa stiamo facendo. Una notizia di servizio stop alle auto a Napoli domani, venerdì 20, a causa dello smog dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Lo dice il Comune in una nota che informa, oltre alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, già contemplate tra quelle per le quali è previsto il divieto di circolazione, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, c'è appunto questa emergenza smog, pertanto il divieto, e lo ricordiamo, domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Vi ricordo l'indirizzo mail cui potete scrivere per ogni vostra domanda, curiosità, redazionechiocciolatelevomero.it. Grazie, arrivederci. Grazie.